Ciao a tutti, siamo a Gruaro, scuola Pizzaioli, corso di novembre 2014, presentatevi, io sono quello scemo che viene istruito, Ermanno, poi abbiamo Ibe Cal, l'uomo tigre, Eddie Murphy del gruppo, poi abbiamo Mario, illustre e campione del mondo, fai servicetto ebete da Graziano Bortuzzo, poi abbiamo Serzo, l'uomo a corretta alternata, tre pizze buone e una fa cagare, Matteo, l'uomo falco, bolla in alto, pizze piccole però, per lui vale la legge, pizza piccola, poi abbiamo Kevin, che non è Costner, ma costa lo stesso, perché ha i danni che fa, gli chiede quanto è alto, risponde il numero di scarpe, va bene così, ok, least but not last, l'uomo del mandarino, ha cercato di corrompere la commissione con due mandarini, la cosa forte è anche riuscito, un applauso a tutti, e poi, per affinare tutti assieme, stringere, salutare, lancio di cappelli, tre, due, uno, vai, ciao ciao, alla prossima.